Alessio è un pareggio che lascia un po' di amaro perché per almeno 60-70 minuti l'Arezzo ha fatto la partita, una buona partita, ha segnato un gol bellissimo, ha concesso 0 eppure è finita 1-1, insomma che spiegazione dobbiamo darci? Penso che ho già detto tutto quanto tu. C'è il rammarico e dispiace perché comunque è un periodo così. Ad inizio anno sapevamo che sicuramente nell'arco della stagione sarebbero arrivate determinati periodi negativi per noi, quindi ce lo teniamo stretto perché ci lavoreremo sopra e cercheremo sicuramente con il lavoro di superarlo. La partita senza dubbio l'abbiamo tenuta noi per 60 minuti, poi ci siamo abbassati un pochino, abbiamo smesso di giocare, ma sapevamo perfettamente che alla fine giocavamo contro il Precenza, non giocavamo con l'ultima della classe, però non mi ricordo che comunque loro ci abbiano messo tanto in difficoltà, se non questi continui palloni lunghi. Noi abbiamo imposto il nostro gioco, come tutti sapete comunque prediligiamo nel fraseggio. Conosco bene questa categoria oramai, faccio fatica a trovare squadre che giochino come noi, quindi il risultato, sì ok, il gioco magari ce lo prendiamo e mettiamo in tasca. Quello che conta è il risultato, però la nostra forza deve essere sicuramente quello dall'inizio a fine partita. C'è il rammarico, dispiace, ci tenevamo a vincere, ma sicuramente abbiamo fatto una bella figura perché abbiamo lottato palla su palla e abbiamo dimostrato di essere inferiore al Piacenza anche se loro sono davanti. Di Larezzo va avanti, poi si fa recuperare, è un po' una costante che c'è in questa stagione. C'è un filo che unisce tutte queste partite o ognuna ha fatto storia a sé, compresa quella di stasera? No, sono episodi, il calcio vede episodi, quindi ogni gol che abbiamo fatto e ogni gol che abbiamo subito comunque hanno storia a sé, quindi non le paragono assolutamente. Dico solamente che bisogna comunque guardarsi un attimo indietro e vedere dove eravamo e dove siamo. Siamo più che positivi e sapevamo che comunque oggi se avessimo vinto avremmo fatto un grandissimo regalo alla nostra gente. Ma come ripeto sono sicuro che loro saranno sicuramente contenti della prestazione che abbiamo fatto perché ciò che ci chiedono è di mettere l'anima in campo. E noi oggi dal primo all'ultimo tutti quanti insieme, da chi ha giocato, chi non ha giocato e sicuramente il contributo è anche dato da chi va in tribuna perché è uno stimolo per quelli che giocano. L'abbiamo fatto tutti quanti, siamo più che contenti, peccato per il risultato, ma andiamo avanti e pensiamo subito alla prossima. Sicuramente quello subito è abbastanza sfortunato, da un cross la palla è finita all'angolino e c'è chi tu poi sul palo. Sì, io passando a 5 ero un po' più defilato perché comunque mi occupavo della marcatura del quinto avversario. Peccato perché stiamo parlando di una partita che magari va sul 2-0, la dobbiamo interpretare in un altro modo. Il cross, se lo possiamo definire così, comunque una palla dietro loro è uno sfortunato intervento nostro, ha fatto sì che comunque loro hanno pareggiato. Se magari non arriva Burzi sulla palla ci arriva Carlo, quindi va così, è un periodo negativo per noi ma sono sicuro che con il lavoro lo annienteremo e penseremo subito a gioire dalle prossime partite che è quello che conta. Pensiamo partita dopo partita e cerchiamo di fare più punti possibili. Dove possiamo arrivare lo vedremo a fine stagione. A livello personale è bene a sinistra stasera? Sono abbastanza contento perché comunque sto sconfiggendo un periodo di forma fisica che mi sto portando un po' dietro. Però come ho detto anche gli altri ragazzi, giornalisti, mi conosce da abbastanza bene ciò che mi dice l'allenatore faccio, qualsiasi tipo di ruolo mi viene detto di interpretare, lo faccio, cerco di dare il mio 100%, cerco di metterci il cuore, cerco di far sì che la squadra si possa esprimere nel migliore dei modi anche se magari sono messo a sinistra. Non è un problema perché questo è un tipo di gruppo che quando il mister chiama in causa ogni singolo giocatore chi da il 100% fa sì che possiamo ritagliarci quelle soddisfazioni che ci portano a lottare con le prime della classe per stare lì su.